Dopo due sconfitte e un pareggio arriva il primo successo del San Marino calcio in serie D. Fiorenzo l'ha battuto 1-0 tra le mura amiche. Subito gli ospiti con Gozzerini che calcia alto sopra la traversa. Stesso esito al 28esimo per il tiro di Di Lauro dopo una bella combinazione Biguzzi d'Agostino. Sul finire di tempo corner per il San Marino, stacco di Lomolino e salvataggio di Gilli. Al 42esimo Giometti realizza in mischia ma l'arbitro annulla per fallo sul portiere. Nel recupero del primo tempo è Tringali per il Fiorenzuola a sfiorare il vantaggio in diagonale. All'ottavo della ripresa il gol partita. Corner da destra palla a muro il cui tiro ribattuto si trasforma in un assist per Aruna che mette in rete l'1-0. Al 15esimo Di Lauro sfiora il raddoppio centrando la traversa mentre le speranze del Fiorenzuola si infrangono al 33esimo quando Oboe spara alto a tu per tu con Rinaldini. Prossimo impegno per il San Marino Calcio in trasferta contro il Cittadella Vismodena.